Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un videoblog, vi porterò con me durante questa giornata e magari anche domani. Sarò occupata con del lavoro, quindi non so esattamente quanto verrà a lungo questo vlog, però ci proviamo. In questo momento sono vestita per andare in palestra, quindi sto andando ad allenarmi. Quindi cercherò di portarvi con me, faccio vedere anche delle novità che ho ricevuto, che sono di skin care, quindi magari ve le faccio vedere questa sera e vi mostrerò anche i miei outfit della giornata. Sono appena arrivata nel parcheggio della palestra, oggi c'è un sacco di gente, cosa che normalmente non capita. Credo ci sia un torneo di calcio e quindi praticamente è letteralmente pieno il parcheggio, cosa che ripeto non capita mai perché questo parcheggio è sempre vuoto. Allora sono in palestra e ho appena finito il mio allenamento, sono mezza morta, faccio un po' di stretching e poi me ne va la casa. Allora, allenamento terminato, ero un po' morta devo dire perché questa settimana ho cominciato di nuovo a fare crossfit, quindi sono letteralmente cappò, ero stanchissima. Questo era il look con i pantaloni, sono di Alo Yoga, scarpe di calzedonia, no, scusate, calzine di calzedonia. Le scarpe sono della Nike e queste di Stronger, che mi avevano mandato per una collaborazione ormai parecchio di tempo fa, invece i guantini sono di Under Armour. E niente, adesso me ne va la casa a farmi una bella doccia. Allora, mi sono appena fatta la doccia o ne avevo veramente bisogno, mamma mia, dopo la palestra sono sempre in una situazione tragica. Comunque vi faccio vedere cosa ho comprato da Zara la scorsa settimana perché volevo una cosina un pochino di stile diverso rispetto al mio solito per poter uscire tipo alla sera, non è che faccio grandi cose alla sera, però volevo qualcosa di diverso. Adesso vi faccio vedere, ho già il sacchettino qua in bella vista, vi faccio vedere la cosa che ho preso. Allora, ho tenuto il sacchettino e anche mi sembra l'etichetta per potervi fare il video, vi faccio vedere. L'etichetta l'ho già staccata perché tenete conto che, non mi ricordo dove l'ha messa, adesso guardiamo se ce l'ho ancora. Se no, niente, vi dico il prezzo a voce o vi cerco il capo in questione. È una gonnellina, vediamo se riesco a farvela vedere un po' in modo decente, di quelle che vanno adesso, quindi midi ma un pochino aderente. E la particolarità è che ha questo sorta di drappeggio, mamma mia, è complicatissimo da farvela vedere. Questa è la gonna in questione, ve l'ho fatta vedere già indossata su Instagram, vi metto magari una foto anche di questa indossata. Ha praticamente questi bottoni dorati, molto carini tra l'altro, con questo drappeggio sul davanti. E poi scende giù lunga, e ve l'ho detto, è midi, ha un pochino aderente, però ha un tessuto abbastanza elasticizzato. E poi è lo spacco, mi piace tantissimo, ve la lascio anche indossata, perché secondo me è veramente carina. E io ho preso la taglia M, che è più o meno la mia solita misura di Zara. Comunque vi lascio una foto o un video indossato, perché è veramente carina. Il prezzo non ve lo so dire, perché in questo momento non trovo più l'etichetta. Però tanto vabbè, i prezzi sapete che qua sono un sacco gonfiati, i prezzi di Zara, quindi niente. Insomma, non è una cosa poco nota, ecco, lo sanno tutti che in Arabia Saudita o comunque in Medio Oriente le cose europee di solito sono sempre rincarate. Invece mi sa che qui su YouTube non vi ho ancora fatto vedere questa, ragazzi, questa meraviglia di Mavi. Non so se avete presente quel marchio italiano di Alba, con cui ho iniziato a collaborare da non tantissimo tempo, ecco. Però li conosco già da un po'. Ho preso questa gonna con Margherita Huck. Cioè, ragazze, questa doveva essere mia a tutti i costi. Il marchio, adesso ve lo faccio vedere perché dovrebbe esserci l'etichetta. Eccola qua. Questo è il marchio, si chiama My V. Tenete conto che io prendo dei loro capi, di solito prendo taglia L. Li fanno però anche volendo sulla vostra taglia, quindi se le parlate sono veramente gentilissime e vi fanno le cose sulla vostra misura. E niente, vabbè, ragazze, cioè, l'adoro. Infatti mi sa che la metterò questa sera per una cena con amici. Allora, mi sono messa a cucinare. Perdonatemi lo stato della cucina, ma ho fatto un disastro per fare con gli spinaci. L'ho letteralmente lanciato ovunque. Torta salata, questa qua, sono queste rotoli della Conad che ho portato dall'Italia. Poi ho tagliato della mozzarella e ho fatto un misto di parmigiano e pecorino per fare una torta salata con gli spinaci. E niente, quindi questo diciamo che è il piano del momento. Praticamente questa sera ho una cena con degli amici e di solito qua ci organizziamo che ognuno porta qualcosa. Quindi io questa sera cucinerò Roma veloce perché io quando devo fare queste cose, di solito sono una persona a cui non piace particolarmente cucinare. Quindi di solito adoro, adoro letteralmente buttare le cose in forno, dimenticarmele per mezz'ora e poi tirarle fuori che sono cotte. Quindi farò delle patate e carote al forno, del broccolo al forno. Mi piace molto dargli una spolverata sopra di pecorino per dargli un po' di gusto. E poi questa torta salata con gli spinaci. Poi invece una mia amica porterà della focaccia, che lei tra l'altro è di Genova, quindi fa una focaccia spettacolare. E poi non ho ancora ben capito cosa preparando invece gli altri miei amici perché so che prepareranno qualcosa anche loro. E poi c'è una ragazza intollerante al lattosio, quindi anche lì ho cercato di fare delle cose ok con i formaggi ma anche delle cose senza. Allora, torta salata finita, non so perché è rimasto attaccato il formaggio lì, comunque vabbè. E poi qua ho messo le verdure. Buonasera, allora sono venuta su per truccarmi. Di solito quando mi trucco utilizzo queste pinzettine, aspettate ve le faccio vedere che sono super carine. Con le mie iniziali, sono ricoperte in pelle, sono dorate e hanno le mie iniziali sopra dorate e sono super carine. Le utilizzo praticamente sempre quando mi trucco per tenermi indietro i capelli. Quindi mi preparo per questa sera e vi faccio vedere anche un nuovo prodotto di skinker che mi è arrivato da Imim. Sapete che adesso collaboro con loro da un po' di tempo e mi hanno mandato un'altra crema, adesso ve la faccio vedere e la metto stasera anche. Allora, come vedete io ho già diversi prodotti di Imim o anche mi hanno mandato delle creme extra, quindi in realtà ne ho parecchie di cremine. Infatti sono molto contenta perché sapete che mi piace molto la skinker e sono contenta insomma di poter collaborare con questo brand. E mi hanno mandato questa crema che è, come vedete l'ho già utilizzata in realtà, è la Luxury Hydration Anti-Aging Face Cream. Quindi niente, una crema viso idratante anti-aging e niente, adesso la andiamo a mettere. Insieme vado a mettermi anche questo che è l'eye cream, questa qua mi piace tantissimo, mi hanno mandato anche il serum, ma non so perché mi trovo più spesso ad utilizzare l'eye serum anziché la crema anziché il serum. Quindi niente, adesso andiamo a mettere questo. Questa è la crema, come potete vedere l'ho già usata tantissimo, mi piace un sacco. Tenete conto che è una consistenza molto morbida, quindi se vi piace consistenza morbida questa è perfetta. Io ho questa maldetta abitudine di farmi i pallini sulla faccia con la crema e poi di passarmela. Comunque mi piace molto perché come vedete è super morbida, quindi non è di quelle creme diciamo dure, non so come dire, con consistenza super, come dire, burrosa e quindi spessa. Questa qua è veramente delicata, quindi mi piace molto ed è perfetta anche soprattutto per il tempo che c'è qui. Quindi sapete che qui fa molto caldo e ho notato che con questa crema va molto bene perché non è spessa, quindi non mi fa sudare, quindi si assorbe bene e evita appunto questa sensazione di, come dire, di sudore sul viso, ecco, che con altre creme invece mi capita. Insomma non è il vostro problema perché se voi mi seguite probabilmente siete in Italia e quindi fa più fresco rispetto a qua. Comunque, insomma, però ci tenevo a dirlo comunque, era un punto a suo favore che mi sono ritrovata, insomma, qui, stando qui in Arabia Saudita. Una cosa che ho sempre l'abitudine di mettere, non c'entra niente con i Mim, però ve la faccio vedere lo stesso, è questa, che è una sorta di face mist, quindi idratante, che metto sempre alla fine della skin care. Non è dello stesso marchio, però, insomma, mi piace tantissimo, quindi ci tenevo comunque a segnalarvela, è di Dalton Cosmetics. E questa la metto proprio sul viso alla fine della skin care, quindi faccio proprio... E questa praticamente me la metto, beh, chiaramente quando ho tempo, perché non ho sempre il tempo di farmi tutta la skin care, però mi piace molto, ecco. Allora, scusatemi per questo casino che c'è alle mie spalle, ma questa stanza è diventata improvvisamente un accampamento, quindi prima era adibita, diciamo, a più, come dire, zona YouTube e Instagram e quant'altro, adesso è adibita a macello totale. Comunque, beh, voglio farvi vedere il vestito di questa sera, perché io sono letteralmente innamorata, devo ancora cambiare le scarpe, cioè mettermi le scarpe, però diciamo che il protagonista è lui, è questo vestito con questa fantasia e tessuto meraviglioso, è di Stella e Susi, l'ho abbinato con questo bracciale di Cezanne con la conchiglia. Di qua ho sempre i soliti Atelier VM e Missoma, di Missoma ho anche questo stasera, questa collana qua, aspettate che me la faccio vedere un po' meglio, abbinata con gli orecchini che sono della sta collezione, questa è la solita collana di Dodo più Atelier VM e niente, quindi questo è il vestito che utilizzerò questa sera, ragazzi, lo adoro. Oggi è il giorno dopo, quindi è sabato, volevo soltanto farvi ammirare questa zona con tutti i fiori, questa dietro invece è l'università, questo angolo sembra sempre bellissimo secondo me. Buongiorno, allora oggi è sabato, mi avete visto farvi vedere questo pezzettino di università che è sempre molto carino, dietro ci sono gli acquari e oggi sono vestita in questo modo, quindi praticamente per fare sport, semplicemente perché la giornata di oggi è stata parzialmente di lavoro, anche se in realtà si tratta di weekend, perché devo preparare per un esperimento che inizierà domani. Quindi praticamente sono dovuta venire alla zona degli acquari per sistemare tutto in modo tale da poter essere pronta per fare questo esperimento. E niente, quindi fondamentalmente la mia giornata di weekend è stata parziale, anzi è stata, sarà parziale, nel senso che adesso sono mezzogiorno e cinquanta e me ne vado a casa e oggi pomeriggio mi rilasso, andrò un po' in palestra, se sarà forse vado al cinema e niente, quindi questo è il piano della giornata. Visto che ci siamo e faccio vedere comunque il mio outfit, praticamente è un total look under armor, tra l'altro tutto sporco a causa del lavoro che ho appena finito. E non faccio le scarpe perché sono tremende, questo invece era un regalo che ci hanno fatto per un progetto. Buongiorno a tutti, allora oggi sì, sono in pigiama, questo è un, in realtà non è un pigiama, è un completo di bare look che mi era stato dato per una collaborazione l'anno scorso, ma io l'ho trasformato letteralmente nel mio pigiama. Comunque, oggi lavoro da casa, quindi sono in pigiama per questo motivo, perché stamattina non stavo particolarmente bene, quindi ho deciso di stare a casa. Quindi questo è l'outfit del giorno e adesso voglio parlarvi un secondino di un paio di cose di cui ci tenevo proprio a parlare. Allora, oggi esisteremo a parlarvi di una cosa forse ispirata da un video che ho visto di Susi Bonaldi questa mattina mentre facevo colazione e ha detto delle cose che effettivamente condivido anch'io e che ci tenevo a condividere qui sul mio canale. In realtà sono cose che mi girano nella testa da parecchio tempo. Il fatto è che fondamentalmente nell'ultimo periodo mi sono sentita veramente poco ispirata per i contenuti di YouTube e anche per i contenuti su Instagram in realtà. Un po' è un problema legato, vabbè, non so ripeterlo, comunque fondamentalmente al posto dove vivo e al tipo di vita che faccio qui in Arabia Saudita, semplicemente perché è completamente diversa rispetto a quella che vorrei che fosse la mia vita e che al tempo stesso è la mia vita quando non sono in questo paese. E quindi diciamo che questo è uno dei primi, diciamo, problemi grossi che ho da quando sono appunto qui. Un po', sempre ho già spiegato, un po' sono problemi di stagione, semplicemente che qui è sempre estate, quindi sapete che il mio canale è sempre stato un canale prevalentemente di moda in cui facevo outfit, haul, eccetera, eccetera. Da quando sono qui faccio difficoltà a fare questa cosa perché le stagioni non corrispondono. In più qui non soltanto non corrispondono, ce n'è praticamente soltanto una di stagione che è l'estate e tutte le altre stagioni praticamente non esistono. Magari esiste un po' di, come dire, primavera, freschina, ma per un paio di mesi all'anno è basta, quindi quello è uno dei primi motivi. In poi in poi ci sono state appunto queste restrizioni di cui vi ho parlato che rendono più difficile, diciamo, gestire determinate cose. E poi dall'altra c'è anche un problema legato proprio come funzionano i social media nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, diciamo. Da quando c'è stata la pandemia fondamentalmente ho notato innanzitutto una riduzione proprio della capacità d'attenzione della gente che guarda i video. La gente ormai è abituata ai reel e ai tiktok che hanno appunto avuto questa esplosione praticamente durante il lockdown. E quindi la capacità, proprio la soglia e l'attenzione in termini di tempistiche si è ridotta drasticamente. Quindi si nota che i video lunghi spesso non catturano più l'attenzione che catturavano una volta, ecco. In più mi manca proprio com'era il ritmo proprio. Aspettate, forse mi è arrivato un pacchetto. Sì, mi è arrivato un pacchettino, adesso lo apriamo insieme. Allora, volevo prima di farvi vedere il pacchetto che è arrivato, volevo semplicemente finire un po' il discorso che stavo facendo prima. Cioè, proprio la questione di quello che è stato il cambiamento sui social. Del fatto che è diminuita proprio la soglia e l'attenzione dell'utente, diciamo, che guarda i video. E quindi, diciamo che questa cosa qui mi fa proprio essere poco ispirata nei contenuti da condividere. In più questa sola dei vlog, insomma, che praticamente devo cercare di limitarli all'interno, eccetera, eccetera. Quest'altra è un'altra cosa che, vabbè, mi va ad impattare un sacco. E poi c'è proprio questa differenza nella gestione dei contenuti sui social. Adesso, praticamente, per poter fare delle visualizzazioni o comunque attirare, come dire, del pubblico, sono due metodi. Cioè, o quello di spendere tantissimo, cioè di fare... Io vedo quelli, i video, quelli che vanno di più probabilmente sono quelli luxury in cui veramente ci sono visualizzazioni pazzesche, ma se veramente si spendono barcate di soldi, che chiaramente, essendo io un essere umano con uno stipendio normale, non posso, insomma, spendere di continuo così. E poi, l'alternativa è proprio quello di fare fondamentalmente delle cose tipo clickbait, oppure veramente, per esempio, anche su TikTok adesso non ho la minima idea di come funziona l'algoritmo là, perché non sono particolarmente amante della piattaforma TikTok, ve l'ho già detto. E quindi, proprio, il mondo dei social media, come è cambiato nell'ultimo periodo, a parte una quantità di finzione e di... Proprio di... addirittura... Non lo so, mi sembra veramente che ormai non ci sia più quella genuinità che c'era una volta di quando, insomma, chi come me ha cominciato magari dieci anni fa su YouTube oppure avere un blog, sa benissimo di cosa sto parlando. Sa benissimo che sto parlando del cambiamento enorme che c'è stato da noi, che eravamo ragazzine, che postavamo anche volendo contenuti non proprio di qualità eccelsa, a quello che adesso, in cui deve essere fondamentalmente la perfezione. Al tempo stesso, però, siamo consapevoli del fatto che la perfezione non è la realtà. Ok che la gente che guarda i video vuole essere probabilmente ispirata e prendere ispirazione dalle persone che guardano, però al tempo stesso io, per esempio, ho smesso di seguire un sacco di persone che mi davano questa impressione del fatto che tutto fosse fittizio, tutto fosse preparato soltanto per fare il video, tutto fosse messo a posto per fare quel video, la casa ordinata per fare quel video, eccetera, eccetera. Cosa che la realtà non è, perché la realtà è che siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti, sì e no, case disordinate, vite franetiche e quant'altro. E quindi ho proprio iniziato a smettere di seguire queste persone che creavano questi contenuti, ripeto, quasi finti e ho ricominciato a seguire le persone come me, perché mi ci rispecchio, condividono dei contenuti genuini della loro vita di tutti i giorni. Anche questa cosa, insomma, io per esempio, l'avete probabilmente notato, io ho iniziato ormai questa campagna no filter su Instagram, non utilizzo filtri da più o meno due anni, credo, due anni, due anni e mezzo forse anche. E questa cosa qua, ragazzi, è stata una di quelle cose che ho anche trovato difficile da fare, perché ho talmente abituato a vedermi su Instagram quando postavo le stories con questa faccia perfetta, pelle perfetta, eccetera, eccetera, che le macchie che normalmente ho sparivano. La prima volta che mi sono guardata alla videocamera con, insomma, la faccia sruccata, sono rimasta tipo sconvolta, dicendo, mamma mia, veramente sono così? E questa cosa qua è un'altra di quelle cose che odio di TikTok e di Instagram, questo utilizzo incredibile di filtri che ti trasformano veramente la faccia. E quindi diciamo che per questo è il motivo, per questo è il motivo per cui su Instagram mi vedete sempre struccata, qui su YouTube spesso mi vedete struccata, proprio raramente capita che io mi trucchi per fare dei video su YouTube. E il motivo è questo, ho iniziato proprio questa campagna verso, come dire, la naturalezza, perché è giusto così, la vita è fatta così, la pelle è fatta così, e niente. Quindi spero che questo messaggio, insomma, sia chiaro. E niente, vabbè, andiamo a aprire il pacchetto così vi faccio vedere cosa ho comprato. Eccomi qua, allora, ho comprato una cosa su The Outlet, non so se lo sapete, è l'Outlet, non mi ricordo mai se è di My Teresa o Farfetch. Comunque, insomma, questo è il, come appare, insomma, il pacchettino appena aperto. Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho preso, ho preso una cosa di Mage che cercavo da un bel po' di tempo e l'ho trovata su The Outlet e la volevo veramente da tanto tempo. È questo cardigan con questi bottoncini con la perla, ma adesso ve lo faccio vedere meglio perché è bellissimo. Allora, ecco il cardigan in tutta la sua bellezza, ragazze, me ne ero innamorata già tempo fa e lo volevo proprio, l'ho preso in una taglia un pochino più grande, quindi di solito io sono di Mage, sono taglia 2, ho preso la taglia 3 per averlo un po' più morbido, ma guardate la meraviglia. Mi piaceva tanto perché aveva questo colore rosa, poi le paillettine, poi i bottoncini gioiello e la manica sbuffo, magari se riesco poi ve lo faccio vedere anche indossato. Allora, eccomi qua con il cardigan indossato, mi piace veramente un sacco. Vabbè, perdonatemi, c'è ancora il cartellino attaccato. L'ho provato sul pigiama, quindi quello che è, però mi piace molto. Me lo aspettavo leggermente più leggero, nel senso che pensavo, non pensavo fosse proprio di lanetta pesante, però è veramente carino, mi piace veramente tanto, anche questa spalla a sbuffo mi piace. E niente, quindi questo è stato l'acquisto. Poi se trovo il prezzo, perché non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagato, ma era scontato, l'ho pagato rispetto al prezzo originale che mi sembra fosse di 200 passa euro. Tra l'altro, scusatemi, qua c'ho tipo una gobba perché ho il colletto sotto della camicetta. Comunque l'ho pagato mi sembra 115 euro, mi sembra una cosa di questo genere. Abbiamo capito che il video di oggi avrà praticamente come sottofondo musicale il lefusa del gatto. Spero che penso si senta. Comunque al di là di questo, oggi sarà una giornata molto tranquilla. Ve l'ho detto appunto, sono a casa, lavoro da qui e poi questa sera se sto meglio, voglio andare a provare powerlifting perché, allora dovete sapere che in questi giorni dovevo fare un esperimento con i miei clownfish che però è saltato perché i miei clownfish non hanno collaborato. E quindi dovevo iniziare l'esperimento ieri sera e oggi essere impegnata con tutto l'esperimento niente, non è partito perché non c'era un abbastanza alarme per poter fare questo esperimento. Quindi niente, oggi ho deciso di rimanere a casa così anche da riposarmi un po' e prendere la giornata molto con calma però l'attività sportiva si fa comunque perché è quello che mi tiene sana di mente in questo posto. e quindi niente, ieri con questa storia dell'esperimento ho saltato crossfit che sapete essere la mia valvola di sfogo settimanale però siccome hanno aggiunto anche questo nuovo corso di powerlifting volevo provarlo quindi questa sera sarà la mia prima lezione di powerlifting e non credo di poter fare video perché in palestra in teoria non si possono fare video però magari posso parlarvene, magari farmi vedere anche il mio diciamo look per andare a powerlifting perché non so se lo sapete ma credo di avervelo già spiegato la maggior parte della vita che faccio qua la passo in cose sportive letteralmente vestita con il mio activewear quindi tutto quello che utilizzo per fare sport e quindi da quando sono qui ho accumulato una quantità di vestiti sportivi che è quasi imbarazzante e quindi niente, volevo almeno farvi vedere, almeno li includo anche nei vlog e nei video come outfit a tutti gli effetti quindi allora almeno utilizzo anche le cose che ho comprato per l'attività sportiva e quindi niente, questa sera vi farò vedere anche il mio look per andare a fare powerlifting e poi non credo di riuscire a registrare nulla ma nel caso riuscisse a registrare qualcosa nell'allenamento ve lo metto qua nel vlog buongiorno a tutti, allora eccomi con l'outfit di oggi oggi indosso il cardigan, quello di Mage che vi ho fatto vedere ieri che è arrivato da The Outnet poi sotto questo top di Luber cintura questa qua di Mango questi jeans sono di Zara sotto metterò le sneakers bianche quindi giusto per non dare troppo colore insomma mi piace questo look tenerlo sul neutro e su colori chiari e niente, quindi questo è il mio outfit del giorno buonasera, allora mi sono appena preparata e truccata sapete che non capita molto spesso per andare alla festa di compleanno sorpresa di una mia amica questo è il mio look ho questo vestito di Ted Baker al quale ho messo sulla cintura di Dior e poi ho la mia chanellina e niente, andiamo ancora a scegliere le scarpe comunque questo è l'outfit la sera fa un po' freschino quindi ho deciso di metterci i collant e tra l'altro mi piace un sacco come è venuto il mio trucco non so se si vedrà molto bene però mi piace parecchio come è venuto e niente, adesso vado che sono quasi in ritardo buongiorno, allora questa mattina sono venuta a fare yoga in questo momento sono al recreational center ho appena finito la sessione adesso vado a casa e niente, cercherò di vloggare un po' oggi perché facevo delle cose interessanti allora sto uscendo, sto andando a recuperare delle zucchine perché voglio fare il riso venere con delle zucchine, quindi un suco di verdure e tra l'altro oggi, non so se si nota dal video aspettate che mi metto all'ombra c'è una luce stranissima non so se c'è tipo della polvere nell'aria sembra esserci quasi una sorta di foschia non capisco e comunque niente, adesso vado al Tamimi compro delle zucchine, magari delle verdure adesso se trovo qualcosa di interessante e poi ci facciamo il riso nel venere eccomi, allora sono pronta per andare a Jedda andiamo a vedere una mostra alla biennale del Medio Oriente che c'è a Jedda e questo è il mio outfit allora ho messo, ho tirato fuori gli occhiali di Celine poi ho messo questi orecchini di mi pare delle mie sans poi questo blazer in realtà adesso sono alla ricerca di un blazer tipo questo ma più oversize quindi magari se lo trovo oggi da zero lo compro questo è di Cezanne ed è tra l'altro in lino che è un tessuto purtroppo che lo so che tendenzialmente naturale, più sostenibile ma lo odio, tremendo eh poi questo è un top quello così smanicato di Alluber questo è il mio walk di Chanel jeans sono quelli che avevo l'altro giorno in ufficio che sono di Mango e poi ho messo sotto queste scarpe di Ovie e basta quindi questo è il mio look buonasera allora questa sera siamo a Jedda alle mie spalle vedete un ristorante che si chiama Acqua e Sale andiamo a mangiare la pizza e dovrebbe avere anche il gelato in teoria quindi adesso questo è il piano e niente buona serata a tutti e poi lo so che si chiama Acqua e Sale e poi se passano a un ruolo di Q&A